Cari confratelli, cari suori, cari apostoli e vocazionisti della santificazione universale, amici e devoti tutti di Don Giustino, Gesù, Maria e Giuseppe. Oggi, 30 aprile, per noi vocazionisti è una data speciale. Ricordiamo il centoseesimo anniversario della fondazione del primo vocazionario, cioè di quel tentativo da parte del beato Don Giustino, novello sacerdote, di dare vita ad un timido esperimento di vita comune. Il 30 aprile 1914, nella casa paterna Villa Simpatia di Pianura, oggi è il luogo dove c'è una comunità di risuori vocazionisti e ancora oggi si trovano i ruderi della pagliarella sotto la quale il beato Giustino radunava i ragazzi per il catechismo. Ormai tradizioni radunaci in questa data, per una veglia di preghiera, il 30 aprile, in quel posto che per noi è sacro, in modo particolare per la famiglia vocazionista che si trova a Napoli. Quest'anno però, a causa delle difficoltà che attraversiamo, non sarà possibile radunarci fisicamente, ma non per questo vogliamo perdere l'occasione di salutare tutta la famiglia vocazionista, che in un certo quale modo è nata in quella pagliarella. E la saluto da qui, dalla nostra pagliarella della Curia Generalissia, qui a Roma, che abbiamo voluto replicare in occasione del novantesimo anniversario dell'apparizione della Madonna Don Giustino, proprio sotto la pagliarella di pianura. L'espressione vocazionario, come sapete, è stata coniata dallo stesso Don Giustino. E' più che naturale, in quanto per lui tutta la vita non è nata che una chiamata da parte di Dio e una risposta da parte dell'uomo. E lui ha consumato tutta la sua vita a intermediare questa divina relazione d'amore. Vocazionario è una parola formata da vocatio più arium, che significa il luogo dove si ripone una vocazione per far crescere. Il vocazionario è l'opera più caratteristica della nostra congregazione, perché il carisma alla ricerca e cultura della vocazione non esiste nell'astratto. diventa realtà solo e nel vocazionario, attraverso il vocazionario. Tutti i tre campi di azione del vocazionario, cioè collegi, parrocchie e missioni, campi di azione dei vocazionisti, trovano la sua anima soltanto nel vocazionario. I vocazionisti esistono per il vocazionario. Vogliamo oggi rendere grazie a Dio per gli altri trenta vocazionari sparsi per il mondo e potevano essere molto di più, visto che nel pensiero di Don Giustino ogni residenza del vocazionista deve essere un vocazionario. Il vocazionario per noi è il luogo per eccellenza dove viviamo la realtà domestica della Santa Famiglia di Gesù Maria Giuseppe. Ed è proprio questa l'intuizione del Beato Don Giustino. Nei vocazionari la presenza dei religiosi è paragonata a San Giuseppe, quelli del Suore è paragonata alla Vergine Santissima, che insieme crescono il piccolo Gesù, che per noi sono le elette delle divine vocazioni. Voglio pregare, benedire, ringraziare per tutte le vocazioni curate nei nostri vocazionari, per tutti i formatori vocazionisti, per le Suore, che con il loro sacrificio, ma soprattutto con il cuore di mamma, rendono come visibile la presenza mariana nei nostri vocazionari. Ringrazio tutti i vocazionisti che, in un modo o l'altro, sostengono le nostre vocazioni. Le apostole e tutti gli amici, benefattori e benefattrici della nostra grande famiglia vocazionista desidero che sappiate che tutto il vostro appoggio spirituale e materiale esiste in vista dei nostri vocazionari. Voglio concludere, assicurando a tutti voi, che mentre il tempo sembra abbia rarentato o forse richiuso il nostro operare, il nostro posturatore continua a portare avanti la causa di canonizzazione di Don Justino, che sembra stia giungendo alla fase conclusiva. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Amen. Gesù Maria Giuseppe, buona festa del vocazionario a tutti voi.